Carissimi, vi parlo oggi dalla redazione del giornale e vorrei fare due appunti sul caso di Domenico Lucano, il sindaco di Riace che attualmente è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine ha avuto un forte rilievo ovviamente sulle pagine dei giornali, in televisione, perché fino al momento in cui non è arrivato l'avviso di garanzia, il Riace era proposta come un modello di integrazione perfetta, fondata sul matrimonio tra italiani immigrati e sul lavoro degli immigrati che avrebbero fatto rifiorire l'economia della cittadina stessa. Subito dopo l'arresto di Lucano, tutta la sinistra che è sempre stata giustizialista, si è scoperta all'improvviso garantista e per questo si sono spesi Roberto Saviano, Gad Lerner, Laura Boldrini e tutto il carazzone di sinistra. Ora, a me non interessa ovviamente la questione giudiziaria perché è compito del Tribunale risolverla, possiamo solo stare a vedere e ipotizzare che il sindaco Lucano sia innocente fino a prova contraria, come facciamo in tutti i casi. Invece vorrei andare a vedere qual è la mentalità che sta dietro ai cantori dell'immigrazione e dell'integrazione modello Riace. L'idea di base è che la nostra cultura è insufficiente e viene quindi arricchita dalla presenza degli immigrati che portano altre religioni, altri usi, altri costumi, altre tradizioni. Questo è sicuramente vero finché i numeri dell'immigrazione sono contenuti, bassi e controllati. Diventa invece uno sfacelo qualora l'immigrazione sia assolutamente fuori controllo e sia numericamente troppo impegnativa per il territorio che la deve accogliere. In quest'ultimo caso, come si è visto in Gran Bretagna, l'immigrato tende a chiudersi nel suo quartiere, nel quartiere popolato dai suoi connazionali, tende quindi a non rispettare, cioè a ritenere che ci siano delle leggi parallele a quelle dello Stato. Purtroppo in Inghilterra c'è il caso delle corti islamiche che condannano i connazionali, i musulmani in generale a delle pene che non sono previste minimamente dall'ordinamento giuridico britannico. Io spesso mi trovo a pensare cosa avrebbe detto Oriana Fallaci, con la quale ha avuto il piacere di lavorare, della situazione che si sta venendo a creare anche in Italia. Vi voglio leggere quello che secondo me potrebbe dire la signora Fallaci e quello che diceva nel 2001, quando pubblicò La rabbia e l'orgoglio, venendo poi insultata e coperta di contumiglie e ridotta e trattata quasi come una pazza dalle colonne dello stesso giornale su cui aveva pubblicato l'Arabia e l'orgoglio, il Corriere della Sera. Sentite cosa diceva La Fallaci, ve lo devo leggere. L'ondata migratoria che si è abbattuta sull'Italia e sull'Europa non è paragonabile a quella che si abbattè sull'America tra 8 e 900. L'America era un paese giovane dagli spazi enormi. Noi italiani non siamo nelle condizioni degli americani, recente mosaico di gruppi etnici e religiosi, disinvolto guazzabuglio di lingue, religioni e usanze, ma nel medesimo tempo aperti a ogni invasione e in grado di respingerla. La nostra identità culturale è definita da secoli e non posso portare un'ondata migratoria composta da persone che in un modo o nell'altro vogliono cambiare il nostro sistema di vita, i nostri principi, i nostri valori. Sto dicendo che da noi non c'è posto per i moezin, per i minareti, per i falsi astemi, per il fottuto Chador e l'ancor più fottuto Burka. E se ci fosse non glielo darei, perché equivarrebbe a buttare via Dante e Liglieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, il rinascimento e il risorgimento, la libertà che abbiamo a bene o male conquistato, la democrazia che abbiamo a bene o male instaurato, il benessere che abbiamo indubbiamente raggiunto. Equivarrebbe a regalargli la nostra patria, insomma l'Italia, e io l'Italia non gliela regalo. E forse su questo dovrebbero riflettere i sostenitori dell'immigrazione.